Ragazzi buongiorno a tutti, sono Matteo Renzi, solo per dirvi che girano un sacco di bufale di messaggi strani su Facebook, su Twitter, io l'ho ricevuto su WhatsApp, forse anche qualcuno di voi, messaggi in cui qualcuno pensa di essere simpatico o divertente ma non si rende conto che suscita e crea un clima di ulteriore paura, talvolta persino di panico. Io vorrei invitare tutti a non cascarci, vorrei invitare tutti a non farvi fregare da questo clima che qualcuno vorrebbe creare, il terrorismo internazionale è una minaccia seria, noi dobbiamo essere molto attenti, molto determinati, l'Italia farà la sua parte insieme agli alleati internazionali per sconfiggerlo, non sarà facile ma io sono certo che ci riusciremo tutti insieme, quello però che è fondamentale è che non cadiamo nella trappola di chi vorrebbe chiuderci a chiave in casa e di lasciarci vivere nella paura senza uscire, senza fare la nostra vita normale, stare attenti a una cosa è giusto, non sottovalutare niente ma contemporaneamente anche non lasciare all'isteria il compito di dominare la nostra vita. I ragazzi italiani io ne sono assolutamente certo, sono molto più intelligenti di quello che qualcuno possa pensare, nessuno ci porterà via la nostra esistenza quotidiana, l'Italia e gli italiani sono molto più forti della paura.